Turismo. Sono 88 su 257 comuni toscani che hanno già istituito l'imposta di soggiorno, praticamente una delle poche risorse escluse dal patto di stabilità e quindi subito disponibili per le amministrazioni comunali, mentre soltanto due hanno optato per l'imposta di sbarco che va a colpire soprattutto il turismo a mordi e fuggi. La tassa di soggiorno si paga per ogni pernottamento in albergo e può variare da 50 centesimi a 5 euro. Per ora le province dove è più diffusa sono quelle di Firenze con 42 comuni e Siena con 18, seguite da Livorno con 9 comuni, Arezzo e Pisa con 4 e poi le altre. Nel 2013 saranno invece 11 i comuni che introdurranno per ora l'imposta, fra cui Luca Grosseto, Orbetello e Cutigliano. Ma c'è un problema rilevato da Anci Toscana. L'adozione della tassa di soggiorno è stata poco omogenea e rischia di diventare un elemento di concorrenza tra un territorio e l'altro a danno degli esercenti. Siccome l'applicazione dell'imposta è anche una modalità di competizione fra territori ed è tutto evidente che sarebbe opportuno all'interno delle realtà turistiche del territorio toscano che alcune aree intercomunali, quindi aree omogenee aggregate, decidessero di applicare l'imposta nella maniera più unitaria possibile. Di qui la decisione del Lanci di aprire un confronto con i comuni per predisporre un regolamento unitario per l'applicazione dell'imposta in Toscana, individuando tariffe modulate in modo articolato e non basate sul solo criterio di chiedere ai turisti un euro per ogni stella dell'albergo che li ospita.